Ciao Zorzi! Ciao Alfo! Ho portato il tuo papà ma poi ti sei fatto i nonni, gli zii, le mamme, cioè qualunque proprio. Sai che sono promiscuo? Era più promiscuo di te non ce n'è guarda. Eh lo so. Ricordo ancora per tutti i nostri amici all'ascolto il tuo provino a Cinecittà per venire a Grande Fratello dove Zorzi, ragazzi, ve lo dico io, si presentò con i boccoli biondi e io lo spedì a rifarsi la pinta perché sembrava un Paolo Ciavarro dei poveri. Sì, dopo avermi apostrofato come il Ciavarro dei poveri mi hai prenotato un parrucchiere. Esatto, ma mai acquisto fu più azzeccato. Ci aveva visto lungo Alfonso. Hai fatto uno straordinario Grande Fratello e lo sai.